La legge sulle unioni civili non è la priorità del Paese. Il Paese ha bisogno di contrasto all'immigrazione clandestina, ha bisogno di sicurezza, ha bisogno di legittima difesa e di lavoro. La legge sulle unioni civili, voluta dal Governo e dal Partito Democratico, è un attacco mortale alla famiglia tradizionale. Famiglia tradizionale fatta da un papà, da una mamma e dai figli, non da genitore 1 o da genitore 2. La legge dice sì al confronto sui diritti, sì al confronto sui diritti e sui doveri individuali. La legge dice un no chiaro, un no secco alle famiglie omosessuali, dice no al matrimonio omosessuale, dice no all'adozione tra persone dello stesso sesso. Esiste il diritto del bambino ad avere un papà ed una mamma, ma non esiste il diritto dei genitori ad avere un bambino. La legge dice no alla pratica dell'utero in affitto, no alla mercificazione del corpo femminile, no alla pratica che lede la dignità della donna. Oggi la legge voterà contro, convintamente contro, a questo Governo indegno, indecoroso e vergognoso. Votiamo contro la fiducia e votiamo contro questo provvedimento. L'ennesima fiducia di un Governo, di un Governo debole, di un Governo irresponsabile, di un Governo servo dei poteri forti.